Il presidente della Lituania accusa la Cina di prendere posizioni a favore della Russia. Dopo un intervento al Parlamento europeo, Nauseda spiega a Euronews che Pechino ha un ruolo importante da svolgere nella guerra in Ucraina e dovrebbe stare dalla parte giusta della storia. In una situazione in cui la Cina è in una scena o in un'opera forma di supportare la Russia, è molto difficile e non credere che la Cina potrebbe giocare il ruolo di mediator tra i due paesi. Se fosse almeno neutrali, potrei immaginare una stagione, ma ora non vedo le possibilità e credo che la Cina deve considerare ciò che vuole raggiungere in questa guerra. Nel momento, ho avvaluto e vedo il ruolo della Cina di più distruttivo che la costruttiva. Aumentano le voci di un'imminente visita del presidente cinese Xi Jinping in Russia per incontrare Putin e discutere le prospettive di pace. Per quanto riguarda le sanzioni, Nauseda pensa abbiano arrecato qualche danno all'economia russa, ma ci si aspettava di più. Si chiede quindi ai governi dell'Unione di superare i propri interessi nazionali per approvare misure restrittive in campo nucleare. Si chiede il 10 paese di sanzioni, potrebbe essere più forte, e la nostra suggestione è di includere Rosatom come company, di includere i membri dei membri. Nouseda è anche a favore della consegna di tutti i tipi di armi all'Ucraina, inclusi i caccia. Grazie. Grazie. Nauseda è pessimista circa la possibilità di tornare al tavolo dei negoziati nel prossimo futuro, avendo Russia ed Ucraina ancora prospettive molto lontane.